L'influenza picchia ancora duro. Nella settimana tra Natale e Capodanno, secondo il nuovo bollettino della sorveglianza Respi Birnet dell'Istituto Superiore di Sanità, sono stati poco più di un milione gli italiani messi a letto da sindromi simili-influenzali. Il numero reale potrebbe però essere più alto a causa dei ritardi di notifica causati dalle festività di fine anno. Al momento è difficile prevedere quando ci sarà il picco, è tuttavia probabile che nelle prossime settimane ci sarà ancora una circolazione sostenuta dei virus respiratori, specie con la riapertura delle scuole, afferma Anna Teresa Palamara, direttrice delle Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. E ci si avvia verso i 7 milioni di casi. Dalle novembre scorso, infatti, da quando cioè è partita la sorveglianza, sono 6,7 milioni i casi di influenza in Italia. La passata stagione aveva chiuso il 2023 con un dato piuttosto elevato che ha toccato i 14 milioni di casi. Intanto sembra rallentare il Covid. Secondo l'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'ultima settimana, l'indice di trasmissibilità è stabile e sotto soglia epidemica a 0,75.